Era stato ampiamente annunciato e così è stato. L'inverno stanotte è tornato a far capolino in Toscana, anche con nevicata a quote più basse. Qui ci troviamo all'Alpe di Poti, nel comune di Arezzo, la montagna degli Aretini, che si è risvegliata questa mattina, come vedete, sotto una leggera coltre bianca. L'Alpe di Poti, con i suoi mille metri, è uno dei monti più conosciuti ed apprezzati dai ciclisti Aretini, che questa mattina si sono potuti immergere in un'atmosfera magica. Sì, è veramente bello. Sono partito da casa e pensavo che fosse la girata più brutta dell'anno, invece per ora è la più bella che ho fatto. È magico questo ambiente. Sì, sì. Chi è stato a casa ha perso sicuramente tanto. I fiocchi di neve sono scesi anche in altri angoli della provincia di Arezzo. Dalla Valtiberina, qui ci troviamo a Caprese Michelangelo, al Casentino, completamente imbiancata e chiusi dell'Averna. In Valdichiana, su Monte San Savino, invece, in tarda mattinata, si è abbattuta un'improvvisa tempesta di acqua ghiacciata. Montagne imbiancate, pioggia e temperature basse, il maltempo così sta colpendo il territorio Aretino, dalla città alla provincia, al momento fortunatamente senza particolari disagi. Insomma, dopo un anticipo di primavera, con sole e caldo, aprile è iniziato con un ultimo colpo di coda dell'inverno.